Ciò che appare Shifo del cerchio Ifior è uno dei miei maestri di VB Milarepa 1052-1135 Religioso e poeta tibetano Uno dei principali maestri della Kajiu Scuola della trasmissione orale Una delle quattro principali scuole del buddismo tibetano Insieme alla Ningmapa, alla Sacchiapa e alla Gelupa Dice Ciò che appare come demone Che è chiamato demone Che è riconosciuto come demone Esiste dentro lo stesso essere umano e scompare con lui Commento Il demone esiste prima nel corpo coscienziale dell'essere umano Tanto da diventare poi una fortissima forma pensiero Capace di materializzarsi se viene tenacemente pensata Il demone scompare quando l'essere umano cessa di sentirlo e di pensarlo Capace di materializzarsi se viene tenacemente pensata Capace di materializzarsi se viene tenacemente pensata